Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti anche oggi al nostro appuntamento di WePesaro TV, vi presentiamo immediatamente gli ospiti alla nostra sinistra, Camilla Murgia, assessora alla gentilezza e alla crescita. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie Camilla e Luca Pandolfi che è assessore alla solidarietà e poi vedremo anche le deleghe. Buonasera. Grazie a tutti e due per essere qui, per onore di cronaca vi diciamo che la puntata, questa che vedete oggi di WePesaro TV, la quarta della seconda stagione, è stata registrata ieri, il 25 di novembre, per un motivo ben preciso. Il 25 di novembre è stata la giornata dedicata alla eliminazione della violenza sulle donne. Una ricorrenza nazionale, una ricorrenza riconosciuta dappertutto in tutta Italia, ma non solo. Chiaramente ha una ricorrenza ben precisa perché il 25 novembre avvenne un fatto in, mi pare, in Repubblica Dominicana, dove tre donne furono uccise, deportate, quindi da lì in poi si è deciso di, diciamo, individuare in questo giorno il giorno giusto per parlare di violenza sulle donne, ma soprattutto per tentare di eliminarla. Il problema è grosso, mi rivolgo subito a Camilla Murgia, che ha anche le deleghe dei servizi educativi, scuola, pari opportunità e lotta all'odio, quindi rendiamoci conto di quante cose importanti e davvero pregnanti in quello che significa fare un amministratore locale, avere un assessorato del genere è una grandissima responsabilità, ma credo che sia anche molto molto bello. Camilla, quindi questo è un problema che esiste purtroppo e poi vedremo anche dei numeri, esiste in maniera importante. Sì, esiste in maniera preponderante, le cronache degli ultimi giorni ci portano a sentirci vulnerabili anche nel nostro territorio e comprendere che è un fenomeno distribuito, ahimè, in tutta Italia. C'è tanto ancora da fare, i numeri parlano di un femminicidio ogni giorno e mezzo, ma il dato anche più allarmante sono 88 denunce di violenza di vario genere, dallo stalking, delle violenze più estreme al giorno. Quindi mentre noi stiamo chiacchierando c'è già una donna che è entrata in contatto con i centri antiviolenza o ha chiamato il 1522, che è il numero di riferimento nazionale per denunciare un atto di violenza contro se stesse. È una giornata, l'ho già detto anche in diverse occasioni, che mi piacerebbe non celebrare più, perché significherebbe che la battaglia contro l'odio è stata completamente sradicata dalla nostra cultura e invece ogni 25 novembre ci ritroviamo a parlare di violenza contro le donne. Nonostante tutta la società e anche le amministrazioni locali, Pesaro in primis, è sempre stato attivissimo contro ogni forma di odio, sono anni che si prodigano affinché questa cultura patriarcale, maschilista e anche poco inclusiva e rispettosa dell'altro, se allargassimo un po' l'occhio dell'indagine, è ancora troppo presente nella nostra quotidianità. E allora capiamo che c'è tanto da fare. Noi avremo e abbiamo indetto un consiglio comunale monotematico che si inserisce all'interno di un palinsesto molto ampio che in questa settimana si è svolto nel nostro territorio e nella nostra città nello specifico. Quello che vorrei sottolineare è il grande impegno della società civile che quest'anno, grazie anche a meno norme legate alla pandemia e al Covid, ha rivisto in presenza tantissime voci della città schierarsi con una voce unica contro la violenza di genere e contro ogni forma di odio. Questo ci rende orgogliosi perché evidentemente stiamo creando una grande rete di sensibilizzazione all'interno della città e poi occupandomi di scuole. Le scuole hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione di ogni tipo di violenza e anche le scuole sono state molto attive in questo campo. Durante il 25 novembre ci sono state diverse scuole che mi hanno segnalato iniziative a partire dal Cecchi che ha elaborato una campagna di manifesti. Gli istituti comprensivi che anche se si occupano di ragazzi e ragazze di giovane età sono sempre molto sensibili nell'affrontare questo tipo di tematiche con letture, approfondimenti, momenti di riflessione. Un'iniziativa bella, bellissima del Mengaroni che ha fatto un flash mob dopo un laboratorio dove hanno creato delle scarpette che hanno posizionato di fronte alla loro scuola. Scarpette rosse credo. Scarpette rosse ma anche scarpette che potessero narrare una sorta di violenza. Ogni scarpa aveva una storia e andava studiata e guardata a lungo e ho avuto questa fortuna di poter partecipare. E poi un'iniziativa nata l'anno scorso dell'Iceo Marconi in cui una terza classe ha realizzato in un progetto di imprenditoria un anello con il fiocco dedicato al contrasto della violenza sulle donne che presenteremo all'amministrazione e alle varie associazioni del territorio che si occupano di prevenzione di contrasto alla violenza proprio per cercare di unire l'aspetto se vogliamo scolastico della tematica a un'iniziativa reale di azione e quindi anche questo volevo sottolinearlo. Sì, hai fatto bene a sottolinearlo anche perché in realtà hai dato, come vi posso dire, una sorta di speranza, una sorta di visione ottimistica per il futuro perché in realtà i giovani rispondono. I giovani rispondono, i giovani combattono questo fenomeno, manifestano in maniera estremamente vera, viva, il fatto che non sono d'accordo e lo dimostrano con queste iniziative qui. I giovani sono sempre il punto della speranza su cui noi dobbiamo lavorare, non significa che dobbiamo lavorare solo con loro ma coinvolgere anche i loro genitori, anche il contesto, io lo dico da donna, l'educazione che le madri fanno sui figli ha un ruolo fondamentale anche nel contrasto a ogni forma di pensiero violento che si può manifestare. Quindi i genitori come comunità e riferimento educante, la scuola come stimolo e anche le istituzioni, tutto questo melting pot di impegno rende possibile l'impegno poi dei ragazzi che si trasforma in riflessione, in azione e molto spesso anche in azione. Anche l'accesso ai centri antiviolenza anche nel nostro territorio dimostra e segnala un accesso anche molto giovane a questo tipo di canali e quindi anche la sensibilizzazione che abbiamo fatto, la conoscenza del fenomeno aiuta a smuovere le coscienze su cui però ancora dobbiamo lavorare. Bisogna lavorare tanto, noi abbiamo avuto non più tardi di un mese fa ospite nei nostri studi Luca Pandolfi ma siamo contentissimi di averlo anche oggi perché lui ha anche delle deleghe importanti, servizi sociali, politiche per la famiglia, anziani, volontariato ma è poi in realtà estremamente impegnato nell'ambito del tema della violenza sul genere femminile perché? Perché è presidente di quella che l'associazione territoriale definisce esattamente tu Luca. Sì, sono il presidente dell'ambito sociale territoriale 1 che è il capofila nel territorio provinciale per quanto riguarda il percorso della presa in carico delle donne all'interno del centro antiviolenza. Ecco esatto, quindi l'ha spiegato benissimo, esistono delle strutture nella nostra regione, ogni provincia ha i suoi punti di riferimento, la città di Pesaro è capofila in questo argomento in quanto c'è la casa cosiddetta di emergenza. Allora Luca se ci descrivi un pochino come avviene, come funziona in questo caso nel momento in cui una donna decide di uscire dal suo problema e decide di affrontarlo, cosa succede? Sì, il percorso è articolato perché dipende dalla situazione, però esiste sul territorio una rete di soggetti che vanno dalle forze dell'ordine agli ospedali, all'Asur e ai servizi sociali dei comuni della provincia e il centro antiviolenza che è gestito dall'ambito sociale territoriale 1, che si attivano insieme a una figura importante che è il consultorio nelle varie casistiche che si presentano e che riguardano la violenza sulle donne. Quindi c'è questa rete, è una rete che nasce per dare risposte personalizzate alle donne che stanno affrontando questo momento di difficoltà. Mi piace ricordare che da pochi mesi è attiva, questa rete si è strutturata e quindi ha avuto anche un nome, si è strutturato con un nome che si chiama Rete Virginia che ha anche costituito un protocollo di intesa che diciamo stabilisce quello che fa ognuna delle parti che è messa in gioco in questa situazione estremamente delicata per la donna e ha un nome molto simbolico, Virginia. Però qui ti interrompo Luca, sai perché? Perché l'hai spiegato circa un mese fa. Allora io invito i nostri ascoltatori, se sono stati attenti all'intervista di un mese fa, a segnalarci loro attraverso i loro interventi che sicuramente faranno vedendo questa trasmissione anche sui social perché si chiama Rete Virginia e quindi non te lo faccio dire. Poi magari lo diremo in un'altra occasione, ma siccome l'hai detto un mese fa, questo è un invito davvero a tutti coloro che avevano seguito la tua prima intervista perché tu l'avevi spiegato benissimo. Sì, lasciami dire questo però. Noi giustamente come amministratore siamo presenti giornalmente per rispondere al meglio a una situazione che è molto delicata soprattutto perché non riguarda spesso nella casistica anche territoriale la donna ma anche la donna con i figli minori e quindi sono temi estremamente dedicati. Siamo presenti giornalmente sul territorio anche col centro antiviolenza per dare risposte più costruite e opportune sulla donna ma anche dal punto di vista culturale perché il centro antiviolenza fa un lavoro anche di informazione culturale non solo nella giornata o nel mese di novembre ma ecco questo no ci teniamo a dirlo con Camilla riteniamo che questo lavoro culturale deve essere giornaliero ieri, oggi e domani per dare continuità e trasformarlo in una trasformazione culturale che è duratura nel tempo quindi questo ci tenevo a dire perché poi anche con i soggetti che fanno parte di questa rete di coprogettazione all'interno del centro antiviolenza come il percorso donna si realizzano durante l'anno tanti momenti di approfondimento e di educazione. No ma io ti avevo interrotto solo sul significato del nome Casa Virginia perché questo lo demandiamo agli ascoltatori e ve lo ripetiamo. Luca il tuo ruolo è proprio quella della in realtà anche presa in carico perché tu dall'alto vedi o comunque puoi capire come avviene la presa in carico delle persone che poi effettivamente denunciano una violenza. Ma la tua esperienza proprio personale qual è il tuo sentore della società di oggi attraverso questo ruolo che tu svolgi a livello apicale come proprio ambito territoriale? Beh permettimi di partire dai dati dai numeri ad esempio dell'ultimo anno sul diciamo le donne che sono avvicinate al centro antiviolenza intanto si riscontra una cosa che inizialmente non ti aspetti perché il 55% delle donne hanno fra i 30 e i 50 anni il 15% sono dai 16 ai 30 anni quindi una casistica importante di giovani e questo è il primo alimento l'altro elemento importante che serve a noi anche per strutturare i progetti di presa in carico è che la donna spesso è accompagnata da minori quindi siccome tutto il percorso nei servizi sociali in generale ma soprattutto in questa casistica è personalizzato e quindi costruito sulla persona anche questo è un elemento da attenzionare. Un altro dato che ho trovato interessante nell'analisi dei numeri ma dietro i numeri ci sono le persone e che il grado di istruzione è medio alto perché anche lì un 50 e passa per cento di donne che si avvicinano al centro antiviolenza alla secondaria di secondo grado o all'università come diciamo preparazione scolastica e questo vale anche nell'analisi. Quindi questo può significare che porta a una maggiore consapevolezza? Forse sì perché forse è più facile anche entrare in certi percorsi se hai un certo tipo di preparazione ma vuol dire anche però che diciamo il fenomeno si manifesta anche a quei livelli quindi anche l'altro dato interessante è che il 40% ha un lavoro quindi non è solo in un contesto familiare di disagio che si manifestano questi fenomeni di violenza ma forse anche in una casistica è quella normale delle famiglie di tutti i giorni ed è per questo che ritorno alla questione dell'importanza di affrontare un percorso educativo nel tempo, duraturo e non solo nella giornata simbolica del 25 novembre ecco c'è tanto perché c'è tanto da fare e quindi diciamo noi questa sfida con la Camilla l'accogliamo perché riteniamo come amministrazione comunale che sia un tema molto importante. Certo e l'accogliete in maniera pratica, vera, oggi pomeriggio ci sarà questo consiglio comunale monotematico Camilla quindi che affronterà in un certo modo l'argomento della violenza sulle donne. Ogni 25 novembre ci troviamo ad affrontare la tematica della violenza come amministrazione abbiamo sempre cercato di affrontarla in modo laico dando la possibilità anche ai consiglieri ma anche al pubblico che può seguire il consiglio comunale in ogni seduta in streaming anche senza venire in presenza di avere una chiave di lettura più ampia per poter essere critici e sviluppare delle coscienze e dei pensieri e dei ragionamenti che possano essere poi ambasciatori di buone prassi durante l'anno proprio perché è sempre nell'ottica in cui parlava pochi minuti fa Luca proprio di continuare l'impegno in maniera giornaliera. In consiglio comunale ci sarà la consueta relazione del CAV che darà un po' i numeri del fenomeno, contestualizzerà alcuni processi e percorsi che abbiamo iniziato negli ultimi anni e che anche nell'ultimo anno hanno dato dei risultati molto buoni specialmente quando pensiamo alla violenza assistita da parte dei minori o il ruolo è fondamentale anche del recupero degli uomini maltrattanti che è un altro assist principale delle attività del centro antiviolenza. Come invitata speciale abbiamo anche un'avvocata Michela Manganelli inserita nel registro delle mediatrici penali della regione Marche che ci farà un approfondimento sulla giustizia riparativa proprio come strumento anche di intervento all'interno di quello che è il percorso dell'antiviolenza nell'applicativo del codice rosso con una ricaduta anche sulla violenza assistita e anche nella vittimizzazione secondaria della vittima che è un altro aspetto forse meno conosciuto della violenza sulle donne. Per poi chiudere con un documento politico presentato dalla Commissione Donnellette che è la Commissione 12 del Consiglio Comunale presentato dalla consigliera Mattioli sulla creazione di un osservatorio sulle pari opportunità che dovrebbe racchiudere tutte le associazioni, le realtà, gli enti, le organizzazioni che si occupano di pari opportunità. Qui nel territorio, in città, era un passaggio, un organo se vogliamo che mancava che ci può trarendere, ci darà degli strumenti ancora più operativi per intervenire. Ci piace il lavoro di rete, quindi questo Consiglio Comunale un po' lo rappresenta ed è anche il modo che crediamo sia più utile per intervenire in maniera fattiva su questo fenomeno. La rete, il network aiuta a suddividere le competenze, a lavorare ognuno per le proprie esperienze e peculiarità in una sorta di rete, appunto, di network che funziona. Un po' come la presa in carico della donna vittima di violenza che vede diversi interlocutori agire per la sua tutela e la sicurezza di tutto il suo indotto, quindi familiare. Dall'altro lato, anche le associazioni del territorio e l'amministrazione, in primo luogo, all'interno di questo osservatorio saranno presenti, le donne della dodicesima commissione, porterà avanti delle nuove iniziative. Solitamente per il 25 novembre, appunto, presentiamo sempre un documento politico, perché no il prossimo 25 novembre, con la speranza magari di non doverlo più celebrare e ricordare, però in caso fossimo ancora qui il prossimo anno, potrebbe essere anche il documento politico frutto di questo lavoro delle pari opportunità. Su questo vorrei semplicemente fare una riflessione. Quest'anno abbiamo ospitato la seconda edizione in città di Io posso giocare una manifestazione promossa dalla Vispesoro Calcio, 1898. Che peraltro ha una bellissima squadra di calcio femminile. Esatto, proprio nato da questo bisogno di portare avanti, di essere ambasciatori di una politica di equità, di pari opportunità. Si sono messi come capofila di questa manifestazione e domenica 20 eravamo tutte e tutti allo stadio per una manifestazione collettiva, che ha visto sia l'amministrazione metterci la faccia con un video di denuncia, un po' teaser della domenica allo stadio, sia però la partecipazione attiva di tutte quelle che sono le associazioni della città che si occupano di pari opportunità. E anche questa, per quanto piccola, però rappresenta un'azione collettiva in un unico momento su una tematica che ci riguarda tutte e tutti. Certo, mi dai là per fare questa considerazione un po' scherzosa. Considerate che in questi giorni di mondiali di calcio, in cui giocano gli uomini di tutto il mondo, meno gli italiani, perché purtroppo l'Italia non si è qualificata, in realtà le massime competizioni di calcio femminile vanno avanti. C'è la Champions League femminile, per esempio, che sta in questo momento riscuotendo un grandissimo interesse. È questo che dovrebbe succedere, perché si tratta di uno sport diverso rispetto a quello maschile per tantissimi motivi, ma con una sua dignità e una sua grandissima voglia di far vedere quello che le donne possono fare anche nel calcio. Quindi davvero anche questo, quello che tu hai citato, è davvero un esempio di evoluzione, semplicemente di evoluzione. Io volevo citarle questi dati di cui voi avete già dato alcune indicazioni. C'ho dei dati del Ministero degli Interni che mi parlano di 52 femminicidi accertati dall'inizio dell'anno. Cioè, proprio 52 sono sicuri, nelle Marche sono state 13 negli ultimi 5 anni e l'ultimo è quello, purtroppo, di due settimane fa di Fano. Quindi è comunque un qualcosa su cui si deve assolutamente intervenire e si deve fare e si deve agire. Luca, casa d'emergenza, cosa avviene poi? Quindi mi dicevate prima che c'è questa rete in tutta la regione, però il capofila è Pesaro. Sì, diciamo, nelle situazioni di presa in carico gravi in cui la donna deve essere allontanata dall'ambiente familiare, esiste questa casa di emergenza che dà protezione assoluta alla donna perché nella costruzione di questo percorso di presa in carico il primo elemento è la sicurezza. Questo è il primo elemento che si guarda. Quindi una donna sa dove andare. La casa è segreta, il luogo, ma viene indirizzata in questo posto dove la prima cosa è questa, metto la donna e il minore in sicurezza. Dopo inizia tutto il percorso che va dal psicologico all'assistenza, diciamo, legale, ma viene dopo. La prima cosa è la sicurezza della donna, questo è il primo passo. Dopo la casa emergenza ci sono anche delle strutture che sono a casa rifugio dove già la donna che è entrata in un percorso di recupero, diciamo, inizia questo percorso perché ecco, la cosa importante... Perché in realtà tu hai espresso questo termine percorso di recupero. Sì. Cioè, forse più che di recupero è un percorso di rimettersi in vita. Sì. Cioè, perché in realtà non è che la recuperiamo la donna, è lei che si mette in condizioni finalmente di iniziare un percorso che la fa uscire da una situazione nella quale non poteva più stare. Sì, sì, per una donna è esattamente quello che diceva, è un recupero di emotivo. Anche in questo senso. C'è tanto. In una donna che entra in questo percorso c'è tanto. Infatti, se il primo elemento è quello della sicurezza poi c'è quello psicologico. E non solo. Ed è importante dire questo che sul nostro territorio, sulla parte di presa in carico, quella iniziale, diciamo, facciamo veramente un grandissimo lavoro. Adesso il centro antiviolenza entro la fine dell'anno riva in coprogettazione e gli elementi nuovi che metteremo sono quelli della parte successiva quello del rinserimento sociale della donna perché c'è la parte emergenziale ma dopo c'è tutta la parte di rinserimento che vuol dire sostegno alla ricerca della casa dove c'è bisogno, il lavoro e tutti quelli invece situazioni che vanno costruite in caso di minori, di presenza di minori. Ecco, quello è un percorso sul quale noi vogliamo puntare molto perché c'è l'emergenza ma il nostro obiettivo è quello di sostenere la donna uscire da questa situazione di emergenza. Camilla, invece, prima accennavi al si chiama Progetto Sara? Progetto Sara ne parlava Luca. Ne parlava Luca, ecco. Allora, perché era proprio riferito a questo aspetto, cioè al fatto che le donne in realtà hanno una serie di step prima di essere indirizzate, prima di comprendere come meglio aiutarle. La cosa importante infatti da dire è questo, quando parlavamo di rete che va dal sanitario al sociale ai consultori o ai centri antiviolenza ci sono dei protocolli che sono strutturati per dare la risposta migliore e una risposta anche omogenea. C'è questo protocollo Sara che serve all'assistente sociale o chi ha il primo contatto con la donna per capire la situazione che sta vivendo la donna. È una situazione di emergenza e quindi si deve attivare subito una struttura per spostarla dalla situazione dove si trova ed è quindi tutto questo è importante dire non c'è improvvisazione perché è una cosa importante quindi i vari soggetti affrontano i vari casi dietro al caso c'è la persona in una maniera strutturata per dare sempre questo ci tengo a dire la risposta migliore per ognuna delle donne che si avvicinano al centro antiviolenza o alla rete. Cioè si capisce nella maniera migliore possibile qual è la situazione e qual è il pericolo reale che quella donna sta per dare la risposta migliore per dare la risposta migliore. Camilla verso la conclusione ci sono però anche tante situazioni nelle quali noi leggiamo di donne che hanno denunciato donne che hanno evidenziato il loro problema poco è stato fatto per questioni pratiche poi e forse anche per questioni legislative e magari purtroppo succede che poi succedono accadono le tragedie nelle estreme conseguenze allora anche da questo punto di vista forse dei passi ci sarebbero da fare. L'ho detto come apertura come premessa siamo all'interno di un percorso in cui tanto c'è da fare tanto c'è da fare perché i numeri parlano anche se i numeri vanno interpretati sempre secondo due punti di vista che è quello di maggiore consapevolezza del fenomeno e quindi più accessi all'interno dei percorsi di segnalazione dei centri antiviolenza dall'altra però anche aprire il vaso di Pandora e quindi accorgersi che poi sia come diceva giustamente Luca un fenomeno che si insinua in tutte le pieghe della società senza risparmiare territori classi sociali se vogliamo o gradi di istruzione questo significa che ancora c'è tanto da fare che non sempre quello che noi pensiamo anche la notizia di Anastasia morta nel nostro territorio ci ha colti un po' non dico impreparati però fa emergere la necessità di impegnarsi di più e io penso che la società l'ambiente lo dico anche questo spesso che circonda la donna abbia una responsabilità sui fatti di violenza un conto è denunciare un fatto di violenza già avvenuta ma ci sono tanti segnali pre-violenza esplicita di una violenza se vogliamo simbolica che non sempre sfociano in una violenza fisica ma che comunque rappresentano un logorio per la donna e anche questa è una violenza psicologica che poi molto spesso viene protratta per dei tempi lunghissimi e molto spesso porta anche delle conseguenze psicologiche gravi per chi le subisce e allora in questo caso la responsabilità è del tessuto che c'è intorno alla donna non sempre per concezione culturale paura semplicemente carattere o anche il pensiero che semplicemente non possa capitare a te perché sei diversa da altre vittime di questo fenomeno e allora la responsabilità ai familiari vicini di casa le istituzioni hanno la responsabilità di tutelare anche quelle donne che non hanno la forza o i mezzi per accedere a questi canali di salvezza il centro antiviolenza mi piace ricordarlo agisce sì per le vittime di violenza esplicita quindi chi ha subito botte parole o anche tipi di violenza psicologica ma aiuta anche a intervenire pre e quindi dare gli strumenti alla donna e ai familiari per poter contrastare questo tipo di fenomeno e allora in questo incrocio di responsabilità e di compiti forse è la formula per andare avanti e sconfiggere questo nemico comune grazie davvero a Camilla Murgia e Luca Pandolfi è stato davvero un incontro interessantissimo sono convinto che gli spunti di riflessione sono stati tanti e vi ringraziamo per la vostra chiarezza e anche per la sensibilità che dimostrate ogni volta che siete qui nei nostri studi ma che in realtà dimostrate in tutti i momenti della vostra vita perché voi siete così grazie grazie a te grazie davvero a Camilla Murgia e Luca Pandolfi grazie anche a voi di averci seguito fino a questo momento vi ripetiamo la puntata è stata registrata ieri oggi è il 26 novembre lo sottolineiamo perché tutti i giorni dovrebbero essere destinati e dedicati alla sensibilizzazione su un tema come questo e non solo il 25 novembre buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti